Ho avuto l'occasione di incontrare la bellezza femminile in una delle sue forme più belle, nel momento in cui sboccia dall'infanzia all'adolescenza, in tre casi particolari. Il primo di tutti è stato quando, per la prima volta, ho visto Virna Risi. Adesso pensate a un gruppo di ragazzini scatenati di periferia che giocano su un campetto, tutti contro tutti, un campetto pasoliniano con tutti bozzi e buche, una palla di stracci, noi scatenati a lottare l'uno con l'altro, avere il pallone e fare questo famigerato gol, 20 ragazzini che si aggrovigliano e improvvisamente su questo campetto appare un'apparizione. Appare qualcosa di straordinario. Virna Risi, di 17-18 anni, passa accanto a noi e 20 ragazzini che rimangono fulminati, paralizzati, a guardare questa straordinaria bellezza, eterea quasi. Io vi posso giurare, sono sicuro che non toccasse terra, ma scivolava nell'aria. Questo è l'incanto che ho avuto allora da bambino. Un'altra occasione è stata nel 71, quando mentre discutavamo con Manolo Bolognini, i fratelli Bazzoni e Franco Nero il manifesto di un film intitolato Giornata nera per l'ariete, nell'ufficio delle BRC a via Guidoreni di Manolo Bolognini si è aperta una porta ed è entrata Ornella Muti di 16 anni circa. Cioè siamo rimasti paralizzati, gente di cinema, gente abituata a vedere tutto, l'incanto di questa adolescente ci ha letteralmente ammutoliti. La terza volta è stata a Positano, nel 1991, quando casualmente ho assistito all'elezione di Miss Modella qualcosa che è stata vinta da Charlize Theron. Charlize Theron, a 16 anni, era di una bellezza straordinaria e radiosa. Da quel momento ho apprezzato particolarmente, ho citato questi casi proprio di bellezza in cui si associa alla bellezza del talento, ma si associa anche a una personalità forte, una volontà decisa, una caratteristica molto importante. Verna Risi è andata negli Stati Uniti, chiamata ad Hollywood, portata in auge in tutti i modi, e lei ha rifiutato una serie di cose per stare accanto al suo marito e al suo figlio in Italia. Ha rifiutato gli amori di attori straordinari, di personaggi mitici per rimanere fedele al suo marito e ritornare in Italia. Quindi è un carattere, una forza, una decisione. Charlize Theron sotto questo aspetto è stata anche, ho seguito le sue vicende, una donna molto importante perché alla sua bellezza ha unito questo talento e questa decisione. Pensate che un'attrice famosa per la sua bellezza che improvvisamente nel 2003-2005 decide di interpretare un personaggio orrendo, il personaggio, tant'è vero il film si chiama Monster, il personaggio di una lesbica assassina disperata, sola, violenta e drogata. Bene, si imbruttisce, si distrugge praticamente, e interpreta questo personaggio brutto, sporco e cattivo con un coraggio e una determinazione, lo stesso che adesso l'ha portata a interpretare proprio come personaggi estremi. Boomshel significa la notizia bomba, il grande scopo, il colpo incredibile, dove è esattamente l'opposto. È bellissima, intelligentissima, di grande successo, ricca. Eppure anche in questo caso, come nel caso di Monster, era vittima di un sistema, anche qui è vittima di un altro sistema. Questo sistema di cui è vittima oggi è quella straordinaria macchina del potere che usa lo spettacolo e l'informazione per avere il consenso. Lei è una dei protagonisti all'interno di questa macchina, ma si accorge in realtà di essere un burattino mosso dai fili. Chi muove i fili è un personaggio straordinario reale perché il film parla di persone reali, parla non di un'ipotesi, parla invece di denuncia dei fatti realmente accaduti con nomi, cognomi, date e luoghi estremamente precisi. Il grande burattinaio in questo caso è un personaggio realmente esistito che si chiamava Roger Hales ed era praticamente l'uomo che è stato per primo in grado della destra conservatrice dei repubblicani di capire per primo come quello che conta e questo era il suo famoso proverbio quello che conta non è quello che dice uno, ma è chi lo dice e come lo dice. Cioè tu sei il messaggio, tu uomo politico. È inutile che dici dei grandi proclami, delle grandi cose. No, se ti presenti in maniera suggestiva, se sei, e appunto Roger Hales era proprio il fautore della voce grossa, se strilli, se ti imponi, se aizzi, tu prendi il consenso. Per fare questo Roger Hales aveva creato le Fox News, non le FAC News, le Fox News, notare l'assonanza, e questa grande macchina radio, televisione, giornali americana è stata in grado di creare quattro presidenti, Nixon, Reagan, George Bush e Trump. Quindi pensate al potere di quest'uomo e pensate a cosa significa mettersi contro di lui. Infatti la nostra protagonista del film, Charlize Theron, che rappresenta questa magazine, questa giornalista americana al massimo del successo, il momento in cui si trova sulla rotta di collisione si trova a essere spiazzata, cioè è quella che è in grado di amministrare la più importante trasmissione, quella che si chiama la testa di punta di una situazione, quindi la forza, la decisione, il protagonista, l'ancor women che è in grado di poter aiutare le elezioni del presidente, ma che per la prima volta lei si mette contro Trump, facendogli davvero in diretta una domanda scomoda. Come mai ha questo atteggiamento di misoginia? Come mai è così contro le donne? Questo chiaramente in una televisione che è con il presidente e che aiuta il futuro presidente, cioè colui che sarà il futuro presidente, chiaramente crea un immediato scompenso e a questo punto cominciano delle pressioni su delay, ma non basta questo perché in realtà il gioco è molto più sottile, il gioco si svolge e funziona in un modo molto più complesso ed è il seguente. Esiste una forma di soggezione psicologica che viene esercitata in questa televisione, ma in ogni forma di potere, che è attraverso il ricatto sessuale. Qual è il ricatto sessuale? Se tu sei una donna bella, importante, intelligente e quindi ambiziosa, ti scontri con una gerarchia che è una gerarchia di maschi, una gerarchia di maschi che in realtà non è tanto l'espressione dei desideri repressi e delle voglie di un singolo maschio, ma è una casta e come tale la casta difende i suoi membri sia che hanno torto sia che hanno ragione. In questo caso, ogni volta che le donne provano ad affermarsi, devono scontrarsi con questo sistema di caste che è al di là del sesso. È proprio il sistema. È come se qualcuno volesse entrare nella casta dei samurai. I samurai fanno ostacolo a questo. Se uno volesse entrare nella casta dei banchieri, i banchieri fanno ostacolo, i maschi fanno casta e in questa forma discriminano ogni persona che cerca di avere il loro grado, il loro potere e hanno un modo per farlo, che è quello di soggiocarti sessualmente, nel senso di richiederti delle prestazioni umilianti. Queste prestazioni umilianti, esercitate attraverso il potere, fanno sì che tu rimanga prigioniera del tuo ruolo e ogni volta che vuoi crescere o che desideri crescere, devi chiedere al maschio che sta sopra di te e che ha preteso una prestazione sessuale umiliante nei tuoi confronti di promuoverti. Siccome per poter manipolare le informazioni occorre anche sedurre gli ascoltatori, e gli ascoltori si seducono oltre che con la voce grossa o con le notizie manipolate, anche con la bellezza e l'avvenenza delle giornaliste, le quali sono pregate di indossare gonne corte per far intravedere il ginocchio qualcosa di più, scollature e soprattutto per essere estremamente belle e piacevoli. Ma questo sistema perfetto si inceppa nel momento in cui Nicole Kindman, che rappresenta una di queste giornaliste, di bella presenza con la gonna corta che finora ha seduto gli ascoltatori spacciando le informazioni che volevano la rete, invece pensa e dice qualcosa di diverso da quello che la rete vuole. A questo punto scatta la repressione. La repressione cosa significa? La giurezza viene emarginata, lei si ribella e non avendo a disposizione altro modo per potersi difendere e per poter difendere la sua dignità, prende e rompe il patto di omertà che legava tutte le giornaliste vittime ai ricatti sessuali che hanno subito e di conseguenza denuncia Roger Hales come molestatore. È chiaro che a questo punto scatta il sistema di difesa della casta. Tutte le giornaliste sono invitate a testimoniare in favore di Roger Hales e nel dichiarare che non è vero, che non hanno subito nulla. La nostra protagonista, Charlize Theron, si trova in questo momento fra l'incudio e il martello. Lei stessa è stata molestata, lei stessa sa che questo fatto accade, lei stessa ha il problema di essere complice del sistema oppure non solo di aiutare la collega ma di difendere anche le altre colleghe che stanno per cadere nella stessa trappola. Una di queste è proprio il personaggio interpretato da Margot Robbie, ingenua, venuta dalla provincia, pronta a fare qualunque cosa per ambizione e per fede nel giornalismo e nel suo lavoro. Charlize Theron riflette, rimane indecisa e poi scatta e poi presta la sua voce e il suo volto alla denuncia, scatenando tutta una serie di situazioni che non voglio dire perché non voglio spoilerare il film. La cosa interessante è che il film è stato sceneggiato da Charles Randolph. Charles Randolph è uno sceneggiatore molto particolare perché ha vinto un Oscar e lo ha vinto con un film anche questo di denuncia molto molto duro e molto attuale. Era il film che denunciava lo scandalo dei subprime, cioè i famosi derivati e il famoso scandalo finanziario che ha innestato la crisi del 2008. Il film si chiamava La Grande Scommessa ed era la storia di un personaggio particolarissimo, un finanziere eccentrico e particolare che per primo aveva intuito la possibilità dello scoppio della bolla finanziaria e che quindi aveva inventato un sistema di riassicurazione per coloro che sarebbero falliti, guadagnando quindi milioni di dollari. Anche in questo caso Charles Randolph mette il dito proprio sulla piaga precisa, cioè su questo fatto come era per il denaro, questo culto del denaro lo fa nel culto del potere e in quella che sarebbe la cattedrale del potere, cioè la fabbrica delle notizie, che era appunto in questo caso Fox News, cioè questo grandissimo agglomerato che manipolava tutti i consensi e che era la fabbrica delle elezioni di Trump. I cattivi fervicoletti nel film sono reali e sono interpretati da due grandi attori. Uno interpreta Mardoch che sarebbe il padrone di Fox News ed è interpretato da Malcolm McDowell che tutti ricorderemo e non possiamo dimenticarlo come il protagonista dell'arancia meccanica. Ed era bieco nell'arancia meccanica in maniera da teppista e qui ha una biechitudine diversa, raffinata ed elegante, ma ha la stessa forza e lo stesso sinistro fascio. Roger Riley invece è John Lithgow che tutti quanti conosciamo perché è il famoso serial killer della serie televisiva Dexter, ma prima è stato anche lo straordinario extraterrestre di una famiglia del terzo tipo, la serie americana che raccontava la storia di alcuni extraterrestri che entrano nel corpo di una famiglia media americana e nei comedoni di tutti i colori. Per tanto tempo da maschio ho pensato che in fondo fare un complimento ad una donna, magari anche un complimento un po' osè o un complimento forse magari inopportuno, però questo apprezzamento fosse sempre un complimento, finché non ho subito questo pregiudizio sulla mia pelle e ho capito che non era completamente possibile ed era una cosa orrenda. Racconto l'episodio, mi trovavo ad Hollywood con un produttore italiano molto importante e avevamo fatto alcuni appuntamenti con una producer americana, una donna in carriera, decisa e molto in gamma che in quel momento era sulla Cresta dell'Onda. Questa producer a un certo punto ha organizzato una serata, un party molto suggestivo e molto elegante. Il produttore purtroppo non è potuto andare per via di un altro impegno e ha mandato me, pregandomi di essere molto carino, molto affascinante, qualunque cosa perché c'era in ballo un film. Quindi io mi sono messo in ghingheri nell'ambito del possibile e sono andato a questo party. La festa si è svolta in maniera da prima elegante e poi, man mano che la gente andava via e rimanevano i cosiddetti intimi, io venivo trattenuto con vari pretesti e quindi ci siamo trovati praticamente io e lei da soli. A questo punto l'atteggiamento della producer è cambiato ed è cambiato in una maniera che a me sembrava un po' eccessiva, per cui sì, doveva essere carino, ho cercato di mantenere questo gioco, ma era un gioco e quindi qui ho cominciato a capire come deve sentirsi una donna quando è corteggiata in maniera non gradita. Mi sono reso conto come sia fastidioso e come sia imbarazzante dover essere gentile pur rifiutando certe cose. A questo punto sono stato praticamente quasi messo alle strette dal fatto che lei mi ha guardato fisso e decisi e mi ha detto beh, non fai niente. Io ho detto ma scusa, che devo fare? Sei maschio? Sei italiano? E ho capito improvvisamente come una donna può trovarsi di fronte a questo problema, cioè al fatto che ti venga richiesta una tua adesione a un desiderio esterno, per dirlo in maniera educata, quando a te non ti passa per niente per la testa. La mia carineria che c'era stata fino allora innanzitutto era stata forzata e la seconda cosa era dettata da un fatto, ma più che di interesse mio quello del produttore, volevo dimostrarmi un buon amico e che sapevo fare l'ambasciatore, ma a questo punto la cosa era stata equivocata. Non sapevo come sfilarmi, io però ho un vecchio trucco ed è quello di dire scusi un momento, ma devo aver dimenticato i sigari in macchina e senza i sigari non mi sento a mio agio. Sono uscito, sono tornato in macchina e sono sparito. Il film non si è fatto. Il produttore fortunatamente è partito con un altro progetto e mi ha detto no, no, lasciamo perdere gli Stati Uniti. Ho sempre avuto il dubbio che anche lui dopo sia trovato in una situazione analoga e che l'abbia rifiutato. Buon otto marzo.